Amici appassionati della giovane Italia, buongiorno da Alessandro Torri e benvenuti al campo sportivo tre campanili di Bogliasco. Si stanno per affrontare Sampdoria e Inter in un match valido per la trentesima giornata del campionato Under 18 Serie A-B. La Sampdoria arriva a questa partita dopo il 5-1 subito contro la Lazio a Roma, 17 punti totali per la squadra di mister Carlos Franza. Inter invece che arriva a questo incontro dopo il 5-0 dello scorso turno rifilato al Sassuolo. Inter capolista peraltro con 57 punti al pari della Roma che però ha perso in mattinata sul campo del Lecce. Non perdiamo tempo e andiamo a vedere le formazioni in campo. Sampdoria che si schiera con un 3-5-2. In porta ci sarà Vazic, difesa a tre composta dal capitano Sinatra, Freccero e Melani. Centrocampo a 5 con Islam che andrà a operare sulla fascia sinistra e Pelissa sulla fascia destra. I tre interpreti di centrocampo sono Camicciottoli, Dacur e Decrescenzo davanti Giolfo e Balzano. Per quanto riguarda invece l'Inter, 4-3-3 con Tommasi in porta, Della Mora e Castegnaro, Terzini, Garonetti e Chiesa centrali. Centrocampo con Capitano Zanchetta affiancato da Venturini e Fois. Mosconi, Zuin sulle fasce a fianco di Lavelli che sarà a punta centrale. Lavelli peraltro capocannoniere di questo campionato con 17 reti segnate finora. Pallone che comincia a rotolare adesso con la prima impostazione da parte dell'Inter con Della Mora che è l'ultimo marcatore in ordine di tempo della Sampa segnato sul calcio di rigore nel derby contro il Genoa. Proprio Giolfo che va il tiro adesso. Pallone che esce di poco alla sinistra di Tommasi. Mosconi. Prova a cambiare ritmo. Pallone verticale Lavelli che si muove bene, si ritaglia un po' di spazio. Cero su di lui. Lavelli guarda dentro. Il cross morbido sul secondo palo. Non arriva Zuin. C'è però Fois che calcia potente ma impreciso. Pallone fuori di un paio di metri. Castegnaro medita il cross. Pallone che adesso arriva in qualche modo a Zuin. Doppio passo. Passa in area di rigore e c'è calcio di rigore per l'Inter. Era vicinissimo il direttore di gara. Non ha avuto alcun tipo di esitazione. Arriva adesso il fischio dell'arbitro. Parte Zanchetta che incrocia e mette dentro il gol che vale il vantaggio dell'Inter. Quando sono passati 22 minuti sul cronometro. Squadra di Andrea Zanchetta. Si porta in vantaggio. La partita che sta conducendo per una rete a zero. In virtù del calcio di rigore. Tarate. Prosegue la corsa. De Pieri che si lancia adesso in area di rigore. Posizione di cross. Pallone arretrato. Dove arriva il tiro? da parte di Venturini che va a scheggiare la traversa. Sam che però non ci sta. Adesso perde un brutto pallone però con De Crescenzo. De Pieri. Palla rimane indietro. Poi Mosconi che si libera e calcia. E fa due a zero. Maglia numero dieci per Mattia Mosconi. Lo avevamo detto. Cercava il settimo gol del suo campionato. Lo ha trovato adesso. Sta facendo una partita maiuscola. Così come Garonetti. Anticipo. E poi tentativo di tiro. Era sulla traiettoria Vasic. Che non è riuscito a bloccare. Concede il calcio d'angolo. Riesce a passare. Poi l'appoggio dentro. Panariello. Può girarsi e pensare al tiro. Invece c'è lo scarico. Per Casalino. Tiro fortissimo. Una deviazione. Testa di Castegnaro. Poi c'è ancora Camiciotoli però che deve cedere il pallone. Casalino. Conclusione. E... Pallone che va vicino. Il giocatore in maglia numero quindici. Un classe 2007. Che però non si è fatto affatto in timorire. Occhio qui però. L'uscita dell'Inter e arriva il gol di Panariello che riapre tutto per la Samp. Ha rischiato tantissimo qui con questa uscita corta. L'Inter è stata punita dal neo entrato Panariello. Farci un Camiciotoli dal duello fisico con Pinotti. Vuole un fallo Camiciotoli. Non c'è secondo Tassano. Perché prova a ripartire. Adesso fase di poca lucidità con tanti errori tecnici. E qui Tassano va a sventolare il cartellino rosso per Camiciotoli. Ha sentito qualche parola di troppo. Ha interrotto l'azione. Deve aver sentito qualcosa che non gli è piaciuto. Proteste troppo vementi da parte del centrocampista in maglia numero 7 della Samp. Malai. Controllo con la coscia. Poi il tocco da parte di Sarate che è buono per l'arbitro. Ripartenza Inter. Venturini. Il tocco dentro per De Pieri che sbuccia la conclusione. C'è però Pinotti che calcia. E Vazic. Ancora una volta va giù velocissimo e blocca questo pallone. E finisce. Qui arriva adesso il triplice fischio da parte di Tassano. L'Inter vince 2 a 1 e strappa 3 punti pesanti che le consentono di salire in testa al campionato con 60 punti. Dal 3 campanili è tutto. Augurio di una buona serata e un saluto da parte di Alessandro Torre e Fabio Lograsso che ha curato le riprese di questo match. Grazie a tutti.